Allora, nello scorso video vi ho detto i possibili doppiatori in Dragon Ball Super Super Hero e oggi l'ho aggiornato. Prima vi dico quali doppiatori non sono cambiati e quali sono stati cambiati e poi vi ripeterò la lista aggiornata così potete sapere molto di più. Allora, iniziamo. Allora, Claudio Moneta resterà Goku, Gianluca Iacono ovviamente Vegeta, Emanuela Pacotto Bulma, chi la toglie Bulma? Lorenzo Scattorini Lord Beerus, Alessandro Zurla UIS, Mario Bombardieri Brolli, Katia Sorrentino Cilai. Per Lemmo, il doppiatere è stato cambiato, invece di Diego Sabre abbiamo Antonio Palumbo. Luca Ghignone resterà piccolo, Davide Garbolino resterà a doppiare Gohan, Deborah Magnaghi c'è 18, Pietro Ubaldi invece di lui ci sarà Massimo Corizza a doppiare Karin, Korin, come vi pare. Per Goten abbiamo Patrizio Prata, per Trunks abbiamo Simone e D'Andrea, Simone e D'Andrea scusate. Per Krillin abbiamo Luigi Scribani, per Girobai nel sito ufficiale non hanno aggiornato mettendo il doppiatore di Girobai, Maio, nonostante che compaia nel character poster di Dragon Ball Super, comunque Federico San Andrea rimarrà in Girobai. Poi per Shenron invece di Luca Ward abbiamo Neri Mercorè, per Pan invece di Federica Valenti che è la doppiatrice originale di Pan in Dragon Ball GT, invece di lei abbiamo Chiara Fabiano, poi per Videl abbiamo Cinzia Massironi, non so se abbia dubbiato Videl anche nella serie, fatemelo sapere sotto nei commenti per aggiornarmi, non è che mi ricordi molto. Vabbè, andiamo avanti. Allora, qui andiamo per il clou di questo video, perché per Gamma 1, Gamma 2, Magenta, Carmine e Dottor Hido, per Gamma 1 abbiamo Francesco Venditti che è il doppiatore ufficiale di Wade Wilson aliasi Deadpool, per Gamma 2 abbiamo Gianluca Izzo, per Magenta abbiamo Pierluigi Astore, per Carmine abbiamo Alberto Bognagni, e infine per Dottor Hido abbiamo Alberto Franco. Questi sono i doppiatori che alcuni resteranno e alcuni sono stati sostituiti con nuovi. Allora, vi ridico la lista giornata. Allora, Claudio Moneta e Goku, Gianluca Iacono Vegeta, Emanuela Pacotto Bulma, Lorenzo Scattorin Lord Birus, Alessandro Zurla Uis, Mario Bombardieri Brolli, Katia Sorrentino Cilai, Antonio Palumbo Lemo, Luca Ghignone Piccolo, Davide Garbolino Gohan, Deborah Magnaghi Androide numero 18, o numero 18, Massimo Corizza Corin, Mirko Cannella Dende, Patrizio Prata Goten, Simone D'Andrea Tranks, Luigi Scribani Krillin, Federico Sanandrea Girobai, non ufficiale per il momento, sapremo molto di più vedendo il film quando uscirà che è il 29 settembre, Chiara Fabiani Pan, Cinzia Massironi Videl, Neri Mercoree Shenron, Francesco Venditti Gamma 1, Gianluca Izzo Gamma 2, Pierluigi Astore Magenta, Alberto Magnagni Carmine, e infine Alberto Franco Dottorido. Diciamo per chiarire la situazione appena aggiornata. Va bene, grazie per aver visto questo video, spero che vi ho fatto venire l'idea dei doppiatori aggiornati. Vabbè, io spero per Federico Sanandrea che ci sarà a doppiare Girobai, grande Girobai. Vabbè, grazie per aver visto questo video, lasciate un bel like, vi invito a iscrivervi al mio canale se non l'avete fatto, e ci vediamo al prossimo video ragazzi, a presto, ciao!